Si beccherà una bella multa e gli verrà presentato un conto salato per i danneggiamenti fatti alla sbarra del passaggio a livello di Marotta. Il turista Umbro, che ieri poco dopo le 18.30 si è reso protagonista di questo gesto, dettato sicuramente dal panico di essere travolto dal treno, è stato individuato dalla polizia locale di Marotta. L'uomo, con molta probabilità nell'attraversare i binari uscendo dal mare ed andando verso la statale, non si è accorto del semaforo rosso ed è rimasto incolonnato sui binari. Eppure i cartelli da ogni parte della careggiata sono ben chiari e visibili sul da farsi. Semafro rosso, fermarsi prima delle sbarre. I locali ormai che utilizzano quotidianamente più e più volte questo passaggio lo sanno bene, lui sicuramente meno. Auto ferma, sbarre che si abbassano inesorabilmente davanti all'auto e lui che rimane prigioniero del passaggio a livello. La paura dell'arrivo del treno ha fatto il resto ed in retromarcia dal lato libero ha sfondato la sbarra guadagnando così la libertà. Però è anche una bella sanzione. Inconvenienti che verranno evitati, ci ha spiegato questa mattina Nicola Barbieri, sindaco di Marotta Mondolfo, dato che una volta che verrà utilizzato il nuovo sottopasso realizzato al confine con Senigallia prima della cavalcavia, il passaggio a livello verrà chiuso definitivamente. E dentro la primavera inizieranno i lavori da parte di ferrovie per il sottopasso ciclopedonale. In più, a migliorare la circolazione, sempre ferrovie per l'Italia, migliorerà il deflusso idrico del sottopasso di via Togliatti per le auto, aumentando e potenziando le pompe di drenaggio e la vasca di colmata, scongiurando così i consueti allagamenti in caso di forti piogge. E' un po' pericoloso secondo lei? No, effettivamente sì, perché ormai sarebbe ora, ma questo qui è un secolo che c'è questo passaggio a livello. Dovrebbero chiuderlo? Ecco, appunto, se non altro, almeno uno passa di sotto o passa di sopra. Lei passa spesso di qua? No, non sono di qua. Non sono di qua. Ecco, ogni tanto però il passaggio a livello qualcuno tira giù la sbarra, perché insomma non è un po' pericoloso. E' pericoloso. Sì, eh? E' pericoloso. Quindi se lo chiudono sarebbe meglio? Secondo me sempre. Sono d'accordo, sono d'accordo. Se fosse un po' sarebbe meglio ancora.